Da sempre da parte delle donne, la stilista Giada Curti continua a cavalcare con successo l'attualità come la bomboletta anti-stoke in due collezioni fa, le spose unisex del luglio scorso, adesso puntualissima sul fatto del giorno, manda in passerella una miriade di corpetti, tutti bellissimi, come alternativa alla chirurgia del seno. Fa così molto effetto l'uscita della modella che ha tra le mani un vassoio d'argento con una protesi mammaria. Sono vicino alle donne che si sono sottoposte a chirurgia estetica con il sogno di aumentare il seno trovandosi oggi in pericolo di vita, ha detto la stilista. Con lei alcune donne della politica come Donatella Poretti, Isabella Rauti e Maria Rizzotti. Midnight in Roma è il titolo della sua collezione con ricami ricchi di pietre, cristalli e payette che disegnano arabeschi su abiti morbidamente scostati dal corpo. Bella poi l'idea delle culotte, anni 50, rivisitata in modo sexy spiritoso con una gonna d'organza che partendo dai fianchi diventa strascico. Interessanti gli alti bracciali di cristallo che ordano le mese disegnati da Sylvia Prewhite.